La Questura di Latina, insieme ai carabinieri, alla Guardia di Finanza e alla Polizia Locale, ha coordinato le operazioni di sgombero ad un immobile di via dei Latini, oggetto di confisca e ancora occupato. Si tratta di un appartamento che era stato sequestrato nel 2017 e successivamente confiscato nell'ambito della normativa antimafia, al termine di una mirata attività investigativa condotta dal nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza nei confronti di alcuni professionisti che facevano parte di un'associazione delinquere finalizzata a perpetrare truffe all'Inps. Come accertato, però, il bene confiscato risultava ancora occupato da uno degli indagati e dalla sua famiglia, nonostante un provvedimento di sgombero emesso dall'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Questa attività è proprio finalizzata a ripristinare condizioni di legalità e rientra nell'ambito di un più ampio progetto d'affidamento agli enti dei beni appartenuti proprio alla criminalità organizzata.